Ciao ragazzi, iniziamo oggi con il nostro primo video e giocheremo a Torre Marta Allora, per questo video vogliamo 5 like, Massimo, perché è il nostro primo video ragazzi Ok, iniziamo il video Iniziamo Allora, prima di tutto inizia io che mi chiamo Che mi chiamo Edoardo Io invece Riccardo Io e Andrea Noi due siamo fratelli Andrea e io siamo fratelli, cioè io sono Edoardo Iniziate Il giro è così Il primo No, al contrario Inizio io adesso Arriviamo a 5 mi piace per la prossima challenge Yes No, toccava a me Toccava a me Scusa Rick Che bella pureta ragazzi Che era Chi la fa cadere avrà una penitenza Questa penitenza la facciamo nel prossimo video Toccava a me Toccava a me Toccava a me Ah, Dio so Vai Grazie Dai Edo Ah no Vai Scrivete qui sotto nei commenti Chi perderà Subito E quello che indoviderà Scriverà nei commenti la penitenza che dovremo fare Va bene Va bene E poi Ciao Sì Era il papà del mio amico Riccchio 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 Ah, tocca a me, tocca a me No, toccava a me No, no, adesso tocca a te Scrivete sui commenti che toccava No, no, no E se volete ancora questa nuova serie Scrivetelo nei commenti Mi challenge Ok Ok No, giuro Ok Grazie E poi vi faremo anche vedere un video sulla Play 4 Ok Però se magari Vabbè Come noi ci giocheremo anche a Minecraft Giocheremo a Minecraft però con due joystick Vai Vado Faremo labirinto che lo dovrò fare io E vedremo se riuscirò a farlo Chi tocca? Adesso Non la tocca a Ric Oddio Ric No Che c'è Oh, Andre attento No Vai Tocca a te No, raga Oh, oh Raga Dai Raga Care poi No, raga C'è tutto il tuo posto Veramente No Che fortuna Dai, fortuna questa, raga Cioè, vediamo Ragazzi Oddio No Sto qua di fortuna No, no, no Vedete Ah, Andrea ha perso Mi sa Andrea No, così non muore Fai tu, Andre Raga, raga, raga No, no Sì, sì, sì Raga, si perde Ric È serio Ok, perso Non Non c'è Oddio Adesso Cosa farà? Oddio Oddio Mi dispiace Oddio 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 Oh, grazie Ric No, no No Vabbè Sentire, Ric Me l'ha preso Oddio 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 Aspetta Aspetta Cade Vai Vai E Comunque noi domani O andiamo a Moritz O andiamo in un bar Dove c'è un parco Se volete vederci Facciamo delle foto Dei video Anzi Se volete Arrivano 15 Mi piace Per fare Vlog In piscina Vlog In piscina Sì Vlog In piscina No È la posta Canale Ricchi L'ho finita Dammi che sono Ricchi Io Sono Andrea E Zitto Allora Quella che stava dicendo Andrea Era proprio In piscina Abbiamo finito La challenge Arriviamo A 5 Mi piace Se volete Dare rapidito E ci vediamo Al prossimo Mi piace Se volete Vlog In piscina Ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao Ciao